Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo una serie di libri tecnici dell'editore Libri Sandit. Presso l'editore Libri Sandit potete trovare oltre 600 titoli. Partiamo con la tecnica della pirografia, uso pratico del pirografo. Si tratta di un manuale operativo che introduce l'uso del pirografo. Spiega quali strumenti scegliere, come preparare il legno, come riportare il disegno sul legno e poi come iniziare a pirografare. La tecnica della pirografia, uso pratico del pirografo, impariamo a scrivere e disegnare col fuoco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso passiamo a esercizi di elettrotecnica con simulazione software. Autore Danilo Tommassini Editore sempre Libri Sandit Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.